è tornato è vero che i primi partiti mentalmente fisicamente non era al 100% adesso mi sto mi sto sentendo bene che è la cosa più importante sai che la teao è proprio la fascia tu più raffa perché dopo il gol tu l'hai proprio indicato a tutto lo stadio è tuo è tuo sì sì è suo l'assist suo dopo è vero che ho fatto il gol ancora più bella felice felice assist però per per te alvaro per quanto riguarda teo qual è assist per lui bellissima l'esultante insieme ai tuoi bimbi si è molto bella sono molto contento sinceramente pensavo che l'assist non era di teo perché non mi cerca tanto però non sto scherzando ma se ti fa anche le carezze in panchina l'abbiamo visto le piazze è piazzevole toccarlo si ha fatto un bel taglio di capelli è piazzele toccarlo però siamo molto contenti bisogna continuare su questa strada e sono molto contento anche perché oggi pensavamo di non vederti in campo dal primo minuto è stata una bella sorpresa vederti titolare ci aveva un po spaventato insomma questa borsita abbiamo tutti googlato cosa significasse borsita sai che anche io non so come si scrive ancora quando mi chiedevano ma io mi metto sempre a disposizione della squadra sono molto contento di essere qua bisogna continuare su questa strada all'inizio ha avuto un inizio complicato ma adesso stiamo sulla strada giusta martedì c'è l'everkusen quanta rabbia c'è per com'è andata con liverpool no male perché no no dico ma con questo non posso fare questo no no dopo è vero che con l'everkusen abbiamo avuto con la certezza lì che che volevamo volevamo vincere la partita no ma scusa si è sbagliato ma con questo non posso fare l'entrevista e adesso ci aspetto una partita molto molto tosta martedì contro l'everkusen adesso dobbiamo recuperare bene ci sono le donne per arrivare a quella partita molto importante è tutto tutto giusto ha detto tutto giusto adesso adesso sì per fortuna l'ho detto bene